Terzo pilastro, dal mio punto di vista, è quello del riconoscimento delle identità culturali e religiose. Cioè penso che bisogna fare in Italia una legge sulla libertà religiosa, che superi la legge fascista dei culti ammessi, fatta nel 1929. Culti ammessi perché c'era il concordato, che era per la Chiesa Cattolica, e poi c'erano i culti ammessi, che erano gli altri. Una legge sulla libertà religiosa sarebbe stata giusta in astratto, diciamo così, a prescindere da subito dopo la promulgazione della Costituzione. Oggi è un problema politico, perché penso che bisogna fare una legge che abbia la stessa caratteristica della cittadinanza fatta sul versante, invece che dell'individuo, sul versante dell'aggregazione religiosa. Cioè che la confessione religiosa riconosce la Costituzione italiana come l'insieme di regole che regolamenta la vita sociale, civile e religiosa del Paese e in cambio lo Stato italiano riconosce le confessioni religiose. Cioè ci deve essere un meccanismo, adesso dire di dare e avere non è bello, ma insomma quella roba lì, di reciprocità, grazie per il prezioso suggerimento. Quindi legge sulla libertà religiosa. Il modello sociale a cui secondo me bisognerebbe tendere non è né un modello comunitario, si usa il modello inglese anche se è molto più complesso quello inglese, ma insomma non è un modello comunitario in cui lo Stato italiano riconosce le comunità e in qualche modo ne favorisce l'aggregazione e poi tratta con i vertici della comunità, cioè non è un modello corporativo sia pure aperto con le identità culturali, non è nemmeno un modello assimilazionista che normalmente viene identificato con quello francese, cioè in cui in qualche modo la categoria del cittadino tende ad uniformare. Io penso che debba essere un modello in cui vi sono dei diritti garantiti per tutti, sociali, civili, religiosi, che questi hanno come corrispettivo, che tutti accettano le regole del gioco, diciamo così, della civile convivenza e che però questo permette quindi che ci siano diverse identità come condizione normale, ma che queste non si debbano per resistere aggregarsi in forme chiuse. Tradotto in italiano per me vuol dire che così come non verrebbe a nessuno in testa di chiedere se uno è prima italiano o prima cattolico, io punterei a un modello sociale in cui non venga in testa a nessuno di chiedere se è prima musulmano o prima italiano, perché le due cose, ripeto, nell'accettazione delle regole del vivere civile e della carta costituzionale, non devono porre un problema di gerarchia o di elidersi. E quindi un'idea dove le identità diverse possano coesistere e dove per l'appunto per difendere i propri diritti non si sia obbligato a trincerarsi dentro comunità chiuse e che tendono a riprodurre identità chiuse ed escludenti. Punterei cioè a un modello sociale dove le identità diverse siano riconosciute e proprio per questo siano modificabili, perché la condizione affinché un'identità si possa modificare e che tu non sia obbligato ad impiccarti a una forma fenomenica di identità per poter salvaguardare te stesso. Esattamente come mia nonna aveva il fulare, mia figlia c'è la minigonna, questo è potuto avvenire, per cui la mia compagna ha fatto la confermazione valdese non usando il costume valdese per protesta, diciamo così, le ha fatte in jeans. Invece mia figlia è entrata nella chiesa valdese con il costume valdese, tutta contenta mia madre, ma insomma, cioè le cose... e invece i genitori di la mia compagna non erano così contenti. Però queste cose qua sono possibili esattamente perché la tua identità personale non è obbligata, e quindi è immobile. Quindi io punterei, diciamo così, a lavorare su questo affinché sia possibile cambiarle le identità, cioè le identità non siano fisse. Attenzione, non vuol dire che non esiste l'identità, vorrei che fosse chiaro. Io farei l'elogio della presenza di identità individuali e collettive, ma secondo me il punto è che non siano fisse in un modo squadrato, diciamo così. E così come, secondo me, l'altro punto sia possibile avere delle identità, che le persone possano avere delle identità plurali, cioè dove sia possibile essere maschio, comunista, valdese, valdese, italiano, e queste cose qua stiano assieme, e non si sia obbligati appunto ad essere o italiano musulmano, o... identità plurali. Io penso che questi due punti, identità plurali, identità modificabili, sono il nodo per evitare, diciamo così, che questa simpatica situazione in cui siamo finisca nella guerra civile. Ovviamente noi lo... adesso stamattina io ne sto ragionando dal punto di vista del rapporto con gli immigrati, e secondo me vale in generale, cioè le identità padane costruite sul... inventandosi una tradizione che non esiste, come sempre, e costruite sulla terra e sul sangue, alla fine diciamo, queste robe qua, sono forme di identità, di proposizione di identità fisse, immodificabili, escludenti, e in cui le diverse identità, l'essere operaio, l'essere... svaniscono dentro l'identità legata alla terra. Ecco, io penso che queste sono forme di identità reazionarie che noi dobbiamo lavorare... secondo me non si può usare il termine combattere, perché combattere sembrerebbe che tu hai un'altra identità altrettanto forte che si confligge con quella. Invece io penso che vanno smontate. Vale per l'identità padana, vale dal mio punto di vista per l'identità pakistana chiusa, o indiana chiusa, cioè di lavorare al... al non rendere obbligatorie attraverso l'asciugatura dell'incertezza sociale identità chiuse e lavorare ad un modello in cui le identità appunto siano modificabili e plurali. Questo lo dico, sto quasi finito, non preoccupatevi, in un'idea dal mio punto di vista che esistano dei conflitti positivi e che sono i conflitti dove la logica non è amico-nemico, cioè non è che io vinco distruggendo te, ma è una logica del dire io vinco nella misura in cui modifico te e modifico anche me stesso. Secondo me il conflitto di classe è un classico conflitto di questa natura, in cui... e lo si vede, lo si vede, se uno fa la storia di questi ultimi 50 anni, vede come quando il conflitto di classe è stato molto forte ed ha prodotto forti avanzamenti, ha modificato significativamente la borghesia, non è che non l'ha modificata. E oggi che il conflitto di classe sta messo molto male, c'hai una borghesia che tende a produrre culture devastanti, nel senso che secondo me i conflitti di questo tipo sono conflitti positivi e che appunto modifichano la società e possono farlo. Viceversa i conflitti che sono basati su forme di differenzialismo totalitario, cioè appunto di la terra, il sangue, queste robe qui che abbiamo già visto all'opera negli anni 10 e 20 del Novecento e poi tragicamente 30 e 40, che tendono a riproporsi oggi, secondo me sono forme di conflitto assolutamente non progressive, nel senso che non essendo dialettiche non permettono la possibilità che il conflitto determini una sintesi più avanzata o comunque una dislocazione del conflitto a un livello più avanzato, perché invece tendono a leggere nella soppressione dell'altra la propria vittoria.